Buongiorno a tutti, siamo con Matteo Mattioli, assistente allenatore della Pallacanestro di Ghibertocchio di Nuovi e Filippo Gallo, playguard della Pallacanestro di Nuovi, per parlare della partita a Padova di domani. Matteo, dici qualcosa degli avversari. Domani ci aspetterà una partita veramente tosta. Padova fa del ritmo dell'uno contro uno ed è attivo da tre punti dei suoi armi principali. Noi dovremmo essere molto bravi a contenerli nei primi secondi dell'azione e soprattutto sarà molto importante la nostra capacità sui 40 minuti di fermare le loro caratteristiche principali. Filippo, si riduce da un pari di mesi di stop, hai ripreso da allenarti con la squadra, come stai? Ma finalmente, esatto, dopo due mesi pieni di stop, ho fatto i primi allenamenti in questa settimana e pian piano sto riprendendo il ritmo e spero di poter dare una mano nelle prossime partite. Com'è andata la settimana di allenamenti, Filippo? Ma è stata una settimana molto intensa, abbiamo fatto dei bei allenamenti, abbiamo corso, ci siamo impegnati tanti, siamo pronti per queste ultime due partite nel girone di ritorno per consolidare il primo posto. Bene ragazzi, grazie, l'appuntamento è per domani alle 18 a Padova, si potrà seguire la partita su LNP Pass o chi vorrà venire al palazzetto di Rubano. Ciao a tutti, buona serata.